Dieci giorni di eventi, tre di anteprime, 178 appuntamenti totali, 530 musicisti di 17 paesi. Sono i numeri dell'edizione 2016 del Torino Jets Festival in programma dal 22 aprile al 1 maggio, presentata al Circolo Canottieri e Speria. All'interno del ricco programma torna l'appuntamento con il Jets della Liberazione, una o due giorni a cavallo del 25 aprile realizzate in collaborazione con il Consiglio regionale, Comitato Resistenza e Costituzione.